Ciao a tutti, ciao a tutti. Allora, volevo fare un video per raccontarvi quanto è stato bello il nostro evento di domenica scorsa in un borgo molto molto carino della provincia di Imperia che si chiama Borgomaro. Guardate, siamo state veramente contenti, siamo state accolte benissimo, ci hanno aperto le porte di un palazzo comunale dove vengono organizzate mostre, dove c'è una biblioteca, dove ci sono appunto libri consultabili e dove ci sono delle opere artistiche bellissime. Poi farò dei video con le foto che hanno scattato i nostri fotografi. Insomma è stato veramente veramente una bellissima domenica in amicizia, in allegria, in sorrellanza. Tutte le mie fate erano bellissime ed erano gioiose perché i nostri eventi sono sempre molto 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 gioiosi. Ci divertiamo, questo bisogna dirlo. Si divertono i fotografi, si divertono le modelle che poi sono modelle per un giorno sono delle ragazze signore che decidono per un giorno di indossare i miei abiti e animare questi centri storici. Niente, vi farò poi qualche video così almeno vedrete che meraviglia. Uno l'ho già pubblicato, se date un'occhiata ai video precedenti vedrete, nella copertina non c'è la modella, la modella la vedete dopo, c'è uno scorcio del paese ed è veramente veramente un paese da visitare. Ciao a tutti, ciao a tutte!